ciao a tutti e benvenuti sul canale della dita progetto porfido io sono luca nel video di oggi vi mostrerò un lavoro che abbiamo realizzato qua in veneto qualche anno fa il lavoro di pavimentazione con i cubetti di porfido misura 46 e piastrelle di porfido costi a spacco di varie misure la colorazione è quella tipica del porfido trentino colori misti grigio rosso ruggine violenta tutto questo lo vedrete dopo la sigla non 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.